Non abbiamo uno scrittore? Stiamo per accendere Miracolo 1,2,3 Sto facendo addirittura un video eh ragazzi Allora posso fare Guido Pancaldi? Chi è che scrive? Ci vorrebbe lui eh Eh ma io sto filmando Io comunque sostengo che Bisognerebbe controllare che cosa ho scritto in passato Forse no Io finchè colpisco gli alieni continuo combattendo No C'è da scrivere la frasetta De Foxy Ok Quello la c'è E questo non so cosa fa Non lo spara Maledetti non li avrete Ok ci aggiorniamo dopo qualche testo No 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 No